Il mio ruolo è, insieme con i miei colleghi, di supportare le comunità, varie comunità scientifiche, come i biologi stessi, i biofisici, i bioinformatici, i chimici, gli ingegneri, nell'uso dei supercalcolatori. Cineca, in questo momento, possiede il nono supercalcolatore più potente del mondo, quindi una parte consistente del mio lavoro è quello di supportarli nell'uso di supercalcolatori, in particolare nelle loro attività di ricerca che richiedono l'uso dei supercalcolatori. Io stesso sono coinvolto in diversi progetti di ricerca. Quello attuale riguarda lo studio delle proteine virali del SARS-CoV-2, il virus che in questo momento ci sta un po' tutti bloccando. Nello specifico, il progetto prevede lo studio, dal punto di vista computazionale, delle proteine virali, nel tentativo di trovare dei farmaci che blocchino il ciclo di riproduzione del virus. Questo aspetto è molto importante perché bloccando il ciclo di riproduzione del virus, il virus stesso interrompe la sua diffusione e il suo contagio verso tutti gli altri membri della popolazione. Concludo dicendo che se intraprenderete l'attività di ricercatore, non solo contribuirete allo sviluppo della scienza e quindi al progresso scientifico della materia, ma vi posso assicurare che fare ricerca è veramente molto molto divertente.